Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi facciamo i pronostici della ventiduesima giornata di Serie A. C'è Bologna-Benevento, venerdì. Torino-Genua, sabato. Napoli-Juventus. Sarà una partita difficile questa. Giocheremo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma Napoli ha un sacco di assenze pesanti in difesa, va. Però so che daranno per scontato la vittoria della Juventus, ma il pallone è tondo e succede di tutto. Poi, Spezia-Milan. Roma-Udinese, domenica, mezzogiorno. Può anche vincerla la Roma, questa partita, perché contro le piccole vince sempre. Mentre non ha vinto neanche un big match la Roma. Poi, allora e quindi ci c'è Cagliari-Atalanta. Questo lo posso dirlo. Perché l'Atalanta, secondo me, se la porterà a casa questa partita. Mi spiace dirlo, ma è così. Poi c'è Crotone-Sassuolo. Sassuolo, secondo me, potrebbe anche vincerlo, dai. E poi c'è Sampdoria-Fiorentina. Sarà pure un altro match interessante, va. Però la Sampdoria, secondo me, non perderà punti. Poi c'è Inter-Lazio, eh. Inter-Lazio, eh. Sarà una bella partita. Sono due squadre gemellate, se la giocheranno a pari livello, secondo me. Segneranno entrambe. Immobile e Lautaro, secondo me, segneranno. Poi c'è Verona-Parma. Andiamo. Allora. Bologna-Benevento. Se si gioca stasera, secondo me... Il Bologna, secondo me, non perderà questa partita. Massimo vincerà, o al massimo il Benevento strapperà un pareggio. Bologna-Benevento. 1-X. Andiamo avanti. Poi. Torino-Genoa. Torino-Genoa, secondo me... Il Torino... Certo, si sta pian piano riprendendo. Viene da una rimonta da 3-0 a 3-3 contro l'Atalanta. Mentre il Genoa viene da una grande vittoria contro il Napoli. In crisi. Allora, secondo me... Segneranno entrambe. Se la giocheranno. Torino-Genoa. Goal. Napoli-Juventus. Napoli-Juventus. Certo. Da tifoso, spero in due. Da intenditore, se lo danno per scontato la vittoria della Juventus, allora anch'io metto un bel... Due. Napoli-Juventus. Allora, due. Andiamo avanti. Spezia-Milan. Facile direi. Due. Con over 1.5. Vuol dire, secondo me, vincerà 0-2 Milan. Vincerà 2-0. Andiamo avanti. Roma-Udinese. La Roma deve tornare alla vittoria. Certo, viene da una sconfitta contro la Juventus all'Allianz Stadium e va dove ha indovinato l'uno fisso, va. Roma-Udinese. 1. Sampedoria-Fiorentina. Ecco, qua è difficile da pronosticarla. Qua ci metto... Ho messo una doppia. Sampedoria-Fiorentina. 1-X. Vincere la Sampedoria. Al massimo la Fiorentina strapperà un pareggio. Andiamo avanti. Cagliari-Atalanta. L'Atalanta, che dire, gioca a memoria, va. Questo è vero. Vincerà... E il Cagliari non viene da un buon momento. Sta rischiando pure il Cagliari di essere retrocesso. I risultati non stanno più arrivando, quelli del Cagliari. Bene. Cagliari-Atalanta. Due. Con over 2.5. Tre goli a partita ci saranno. Poi. Crotone-Sassuolo. Crotone-Sassuolo, allora... Io spero che vinca il Sassuolo. Me la rischio. Crotone-Sassuolo. Due. In Inter-Lazio. Inter-Lazio se la giocheranno da entrambe le due squadre. La Lazio ha sei vittorie consecutive in campionato. Mentre l'Inter già è uscita in Coppa Italia contro la Juventus che ci può stare, va. Che già che mi sono ripreso dal veleno di derby d'Italia nella metà gennaio in campionato. Vabbè, secondo me Inter-Lazio adoro giocarmi gol. Segneranno Lautaro Martinez e poi gol di Immobile. E infine Verona-Parma. Il Verona gioca bene, mentre il Parma è inguagliato. Ha il peggior attacco del campionato, eh. Verona-Parma. Uno. Stop. Questi sono i pronostici per quanto riguarda la ventiduesima giornata di Serie A. Non le giocate tutte. È solo un gioco. È un gioco e rimane un gioco. E vediamo di vincere qualche soldino. Ok ragazzi? Adesso non ho nient'altro da aggiungere. Domani so che c'è Napoli-Juventus, che farò il post-partita. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like al video. Di commentare qua sotto. Condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E forza Juve! Ciao belli!